La sanità incompiuta, danno da 40 milioni, centro sanitario mai entrato in funzione. Le fiamme gialle segnalano alla Corte dei Conti un danno erariale astronomico e sei funzionari pubblici. Blitz della Guardia di Finanza all'ATERP di Vibo, acquisiti documenti inerenti contratti a progetto deliberati a beneficio di esponenti politici prima del commissariamento disposto dall'Aggiunta regionale. Concorsone a Palazzo De Nobili, inchiesta chiusa, la procura di Catanzaro termina le indagini sul comandante Salerno, su due vigili e due dipendenti del comune, presunte manovre per assicurare l'avanzamento di carriera. Due nuovi procuratori aggiunti, pronunciamento del plenum del CSM, Marisa Manzini passa alla procura della Repubblica di Cosenza, per Vincenzo Luberto in carico direttivo a Catanzaro. Forza Italia divisa, ma la santellità c'è ancora muro contro muro tra i componenti del gruppo in consiglio regionale, inquieta il silenzio della coordinatrice calabresa azzurra. Buon pomeriggio e bentrovati dalla CNews, in apertura alla cronaca, al centro cuore di Reggio Calabria, danno erariale da 40 milioni. È l'ipotesi della Guardia di Finanza in un'informativa trasmessa alla procura della Repubblica di Reggio Calabria, alla Corte dei Conti, a cui sono stati segnalati anche se funzionari. Sentite. 40 milioni di euro sarebbe questo, la montare del danno erariale causato dalla mancata attivazione del centro cuore di Reggio Calabria. Lo scrivono i finanziari del comando provinciale di Reggio in una informativa inviata alla Procura della Repubblica della Città dello Stretto e alla Corte dei Conti di Catanzaro. È l'anno 2006, quando l'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli pubblica il bando per la realizzazione della cardiochirurgia, ma i lavori vengono ultimati e collaudati solo nel dicembre 2011, dopo una serie di ricorsi e controricorsi. Il centro cuore, però, non è mai stato attivato. Nell'informativa, la Guardia di Finanza evidenzia responsabilità nei ritardi degli iter procedurali, nonché nella mancata previsione delle risorse finanziarie per l'assunzione del personale specializzato. Ma le ragioni sono da ricercarsi anche nell'impossibilità di assumere il personale medico e paramedico a causa del regime imposto dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. Ad oggi le avanzate e costose apparecchiature del centro cuore Regino, dotato di due sale operatori e dieci posti letto di leggenza e altrettanti di terapia intensiva, acquistate con un leasing in 18 rate da 500 mila euro, per le quali l'azienda ospedaliera ha ancora in corso i pagamenti, giacciono completamente inutilizzate. Il danno erariale, ipotizzato dalla Guardia di Finanza, che ha segnalato alla Corte dei Conti anche sei funzionari pubblici per eventuali responsabilità, ammonterebbe complessivamente a 40 milioni di euro, 18 per i lavori di realizzazione e più le uscite annuali, stimate in oltre 7 milioni e mezzo di euro, che in caso di attivazione del centro, la sanità calabrese avrebbe potuto risparmiare in termini di mobilità passiva. E ancora cronaca, blitz della Guardia di Finanza all'ATERP di Vibo Valencia. I finanzieri in queste ore stanno acquisendo i documenti inerenti ai contratti a progetto, deliberati a beneficio di esponenti politici, prima del commissariamento disposto dalla Giunta regionale. Sentiamo. La Guardia di Finanza negli uffici dell'ATERP di Vibo Valencia. I militari delle Fiamme Gialle stanno eseguendo in questo momento l'acquisizione di alcuni atti disposti dalla Procura della Repubblica guidata da Mario Spagnuolo. Nessun commento da parte del Procuratore. In base alle prime notizie apprese, i finanzieri starebbero estraendo copie del carteggio inerente ai contratti a progetto relativi alla ricognizione del patrimonio delle ATERP calabresi. Gli ultimi contratti sono stati deliberati pochi giorni prima dell'azzeramento del vertice disposto dalla Giunta regionale, tra i beneficiari, come fatto emergere da un servizio d'inchiesta sull'AC News 24, che ha sollevato il caso, diversi esponenti della politica locale. Della vicenda si era subito interessato il prefetto di Vibo, Giovanni Bruno, mentre la parlamentare Dalina Nesci aveva chiesto un intervento della Procura. Ai nostri microfoni l'ex commissario dell'ATERP, Tonino Daffinà, si dice sereno, sebbene dalle sue parole traspaia una certa amarezza. Sentiamolo. Più che scandalo parlerei di polverone che è stato fatto in questi giorni sui giornali, ma senza attribuire responsabilità naturalmente alla stampa. Giustamente la Guardia di Finanza ci vuole vedere chiaro. Noi siamo disponibilissimi a rendere tutte le informazioni e tutti gli atti necessari che la Guardia di Finanza ritiene dover acquisire. Sono sereno, tranquillo, perché noi abbiamo proceduto sempre all'insegna della trasparenza. I nostri atti vengono pubblicati sul sito affinché tutti quanti possano accedere e verificare l'attività che noi svolgiamo. Dunque l'è proprio certo che non si troverà nulla di anomalo in tutta questa procedura? Qualche nome magari discutibile? Non so se c'è qualche nome discutibile, ma le procedure che noi abbiamo adottato sono procedure stabilite da un regolamento, attraverso una short list, attraverso dei curricula, attraverso delle dichiarazioni che fanno naturalmente tutti quanti dove non hanno né incompatibilità né carichi pendenti se faceva riferimento a qualcosa del genere. Che cosa l'ha amareggiata di più o la sta amareggiando in questi giorni rispetto a questa polemica? La cosa che mi sta amareggiando di più è che mentre mi arriva, giustamente perché il Presidente Oliverio ha deciso di accorpare l'Ater per denominare dei dirigenti interni, mi amareggia che proprio gli ultimi giorni del mio commissariamento mi devono vedere protagonista di una cosa che io ritengo assurda. Concorsi truccati a Palazzo dei Nobili, chiuse le indagini, sott'accusa il comandante della Polizia Municipale Salerno, due vigili e due tecnici del Comune di Catanzaro avrebbero disatteso leggi e regolamenti per garantire a pochi eletti un avanzamento di carriera. Sentiamo. Il comandante della Polizia Municipale, due vigili e due tecnici del Comune di Catanzaro, tutti d'accordo per manipolare un bando di concorso e assicurare a pochi eletti un avanzamento di carriera. Il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Paolo Petrolo, ha chiuso il cerchio a carico di Giuseppe Antonio Salerno, Giuseppe Cardamone, Giuliano Siciliano, Gregorio Cellini e Franco Basile, rispetto ai quali si ipotizza il reato di abuso di uffici in concorso. Salerno, in qualità di comandante della Polizia Municipale di Catanzaro e presidente della Commissione di concorso, avrebbe attribuito ai due vigili, Cellini e Basile, definiti dalla Procura agli istigatori, un avanzamento di grado, attribuendo loro il titolo di maggiore, bypassando leggi e regolamenti, spalleggiato da due tecnici, Siciliano e Cardamone, per sacrificare i diritti acquisiti da altri concorrenti. In particolare, Salerno, poi, in presenza dell'istanza di ricusazione avanzata contro di lui da una concorrente e fondata sul mancato riconoscimento di un avanzamento di carriera, avrebbe omesso di astenersi, mentre Cardamone e Siciliano, componenti della Commissione esaminatrice, non avrebbero impedito la violazione dell'obbligo di astensione, nonostante la legge in materia imponga alla Commissione la dichiarazione di una sottoscrizione che metta nero su bianco l'insussistenza di incompatibilità tra i componenti della Commissione, Presidente compreso, e i concorrenti. Siciliano e Cardamone avrebbero, per così dire, chiuso un occhio sull'inimicizia del Comandante Salerno e una concorrente, arrecandole intenzionalmente un danno economico e professionale, rappresentato dall'attribuzione di un punteggio che ha portato alla valutazione di inidoneità della stessa candidata, perdendo gli emolumenti connessi all'incarico distruttore, direttivo e di vigilanza. Il proscioglimento per i nostri dirigenti, Mariano Romeo e Beniamino Mazza, originariamente indagati nell'inchiesta sull'Alaco, è una bellissima notizia, non solo per i due tecnici, stimati professionisti, ma per tutta la nostra agenzia. E' quanto affermi in una nota il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, ARPACAL, Sabrina Sant'Agati, in merito all'inchiesta sulla potabilità delle acque del bacino dell'Alaco, a cavallo tra le province di Catanzaro e Vibo Valencia, che originariamente nel 2012 aveva visto coinvolti nell'inchiesta i dirigenti tecnici dell'ARPACAL, in quanto direttori protempore del Dipartimento Provinciale di Vibo Valencia. Sono stati nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura due nuovi procuratori aggiunti. Si tratta di Marisa Manzini, che passa alla Procura della Repubblica di Cosenza, e Vincenzo Luberto, che rimane alla DDA di Catanzaro, ma diventa procuratore aggiunto. Importanti novità nei due principali tribunali calabresi. A Cosenza arriva Marisa Manzini, che è il nuovo procuratore aggiunto della Repubblica nella città dei Bruzzi. La nomina è stata decisa all'unanimità dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha accolto la proposta, anche questa unanime, della Commissione Incarichi Direttivi dell'Organo di Autogoverno della Magistratura stessa. Il giudice di origini piemontesi, dal 2003 al 2009, ha lavorato nella direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, conducendo importanti inchieste, in particolare sui clan di Indrangheta del Vibonese. Quindi il suo passaggio alla Procura Generale della città dei Tre Colli, dove è rimasta per quasi sei anni. Contestualmente, ieri dal CSM è giunto pure il Via Libera alla nomina di Vincenzo Luberto, che diviene procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia del Capologo di Regione. Dunque, rimane nella medesima postazione, passando però dal sostituto procuratore a procuratore aggiunto. Celebri le sue inchieste contro le cosche del Cosentino, su tutte quella che ha visto alla sbarra tutto il clan degli Zingari, capace di seminare il panico per anni nell'area settentrionale della Calabria. Torniamo alla cronaca. Spezza la relazione clandestina e viene disonorato sui social. Vendetta a luci rosse nel Castro Villarese. L'uomo che è sposato avrebbe postato scatti o sé realizzati insieme alla donna. Sentite. Lei, 40 anni, denuncia il suo amante perché avrebbe pubblicato sui social gli scatti o sé che li ritraevano insieme. Una storia peccaminosa che emerge dalle pieghe della denuncia presentata da una donna che rischia di perdere la sua onorabilità per colpa della gelosia e della rabbia del suo amante. Quello esposto è finito sul tavolo del capo dei PM di Castro Villari, Franco Giacomo Antonio, che ha aperto un fascicolo. L'indagine mette a fuoco lo scenario imbarazzante di una relazione che una donna di Castro Villari, non sposata, avrebbe intrattenuto con un uomo invece felicemente sposato e con figli, di qualche anno più grande di lei. Una coppia clandestina che sembrava particolarmente affiatata. La vita dell'uomo sembrava infatti risvegliarsi improvvisamente proprio grazie a quelle scappatelle. Ogni incontro gli regalava profonde emozioni che sembravano sopite. Una love story intensa e tumultuosa che la coppia clandestina avrebbe deciso di rendere immortale attraverso alcuni scatti fotografici. Quei sentimenti però si sarebbero spenti a causa dei sensi di colpa di lei. La donna avrebbe iniziato a prendere le distanze dall'uomo, ma lui non aveva nessuna intenzione di mollarla. Quella storia d'amore però è ritornata a galla nelle scorse settimane quando la donna si è rivolta alla magistratura per denunciare la pubblicazione, senza il suo consenso su un profilo Facebook. Foto intime che il desiderio di vendetta del suo amante abbandonato ha portato in piazza. Probabilmente è tutt'altro che intimorito della reazione della moglie. Ed ora le altre notizie di cronaca della giornata. Sequestrati circa 16 tonnellate e mezzo di prodotti per l'agricoltura e 90 tonnellate di prodotti illeciti messi sul mercato per un valore stimato di circa 7 milioni di euro. Sono questi alcuni dei numeri dell'operazione Mela Stregata condotta dai militari della Guardia di Finanza di Cagliari che in questi giorni hanno portato a termine il sequestro in 133 esercizi commerciali di tutto il paese di prodotti agricoli potenzialmente nocivi. I sigilli hanno interessato simultaneamente anche attività situate nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Una struttura utilizzata per l'accoglienza degli immigrati gestita dalla parrocchia di Ellera di Camini è stata incendiata da sconosciuti. Ad accorgersi dell'incendio è stato un volontario della protezione civile che ha dato l'allarme e denunciato l'accaduto. Il vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, che ha preso la notizia mentre si trovava in pellegrinaggio nella Terra Santa, ha condannato il gesto malavitoso compiuto, ha sottolineato, nei confronti di una struttura destinata a finalità di accoglienza ed altre attività formative. 40 condanne e 5 assoluzioni. Queste le richieste del Pubblico Ministero Antimafia Eugenio Facciolla nell'ambito dell'inchiesta denominata a tela del ragno contro le cosche Serpa, Bruni e Scofano Martello Ditto, operanti sul Tirreno Cosentino. Il filone principale del procedimento è in fase di conclusione al Tribunale di Paola. Il processo condito abbreviato è già terminato invece con numerose assoluzioni e condanne leggere. Regione, ecco i dirigenti reggenti, via libera della Giunta regionale e nuovi vertici dei dipartimenti. Per le designazioni definitive l'esecutivo attende il varo di un apposito avviso pubblico. Disco verde della Giunta regionale, targata Mario Liverio alle nomine dei nuovi responsabili dei dipartimenti. Si tratta, d'altro canto, di direttori generali reggenti in attesa di un avviso pubblico che cristallizzerà in maniera trasparente i vertici della nuova burocrazia regionale. Il provvedimento è stato adottato su proposta dall'attuale Assessore regionale al bilancio e al personale Vincenzo Ciconte. Le nomine, dopo gli accorpamenti adottati nel solco della spending review che caratterizza il nuovo corso, sono passate da 14 a 10. Sono stati nominati anche i dirigenti dell'avvocatura, dell'audit e della stazione unica appaltante. Ecco dunque i nuovi direttori generali reggenti. Alla presidenza Giuseppe Bianco, controlli Luigi Bulotta, al bilancio Fabio Decello, programmazione nazionale e comunitaria Fortunato Varone, infrastrutture e lavori pubblici Domenico Pallaria, sviluppo economico, lavoro e politiche sociali Antonio De Marco, risorse agricole e forestali Carmelo Salvino, tutela della salute a Bruno Zito, turismo, beni culturali, cultura e istruzione a Pasquale Anastasi, urbanistica e ambienti a Domenico Pallaria, alla struttura avvocatura Benito Spanti, autorità audit Carmelo Barbaro, alla stazione unica appaltante Mario Donato. E ancora politica, nel centro-destra prosegue il momento di difficoltà dentro Forza Italia. Il partito di Berlusconi rimane diviso. Le polemiche continuano ad animare il gruppo regionale, Maiole Santelli non prende posizione. Forza Italia rimane alle prese con le proprie diatribe interne. Le divisioni create dalla spaccatura tra Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto rischiano di riverberarsi anche sul territorio calabrese. Nella nostra regione il GRU, nell'assemblea di Palazzo Campanella, rimane quanto mai eterogeneo. I cinque azzurri eletti stentano a trovare la quadratura del cerchio e a dialogare fra loro. Da una parte ci sono Ennio Morrone, Nazareno Salerno e Alessandro Nicolò. Dall'altra Mimmo Tallini e Fausto Orsomarso, che continuano a battersi a colpi di spada più che di Fioretto. Dopo il caso legato alla mancata iscrizione al gruppo, resta ancora in discussione, infatti, l'adesione dello scopellitiano Orsomarso alla sparuta pattuglia di Forza Italia. Il tutto mentre Iole Santelli continua a tacere, in attesa forse di indicazioni nuove che provengano dalla capitale. Il ritorno alla politica attiva di Silvio Berlusconi potrebbe mettere in tal senso fine a un anno di anarchia dentro Forza Italia e soprattutto rischia di risultare letale per le truppe che Raffaele Fitto ha dispiegato sul territorio. L'isolamento della minoranza interna darebbe maggiori garanzie e un nuovo slancio a Iole Santelli, probabilmente in attesa che l'ex cavaliere ritorni sugli scudi. Partito da Cosenza, il tour del segretario nazionale CGL, Funzione pubblica, Rossanna Dettori, che ha incontrato questa mattina i lavoratori candidati alle elezioni degli RSU nel settore pubblico. Nel pomeriggio la Dettori sarà a Vibo Valencia. Parte da Cosenza il tour del segretario nazionale CGL, Funzione pubblica, Rossanna Dettori, che ha incontrato i lavoratori candidati alle elezioni degli RSU nel settore pubblico. Diversi temi trattati durante l'incontro, dalle conseguenze e dettagli lineari imposti a livello governativo al blocco dei contratti e del turnover, passando per accorpamenti che invece di dar vita a una burocrazia efficiente, creano solo meccanismi farraginosi di un sistema che di moderno ha poco o nulla. La cosa fondamentale è che i lavoratori vadano a votare. Intanto che vadano a votare il più possibile. Poi per dire c'è la democrazia, io scelgo chi mi rappresenta, la lista, ma soprattutto scelgo il lavoratore che si candida e che mi rappresenta. Perché è l'unico luogo dove ognuno sceglie anche il soggetto. Perché come sappiamo tutti, a noi questo diritto politicamente viene negato. Alle elezioni, che si svolgeranno dal 3 al 5 marzo prossimi, parteciperanno anche i lavoratori LSU ed LPU. Una grande opportunità, secondo Alfredo Iorno, segretario generale Funzione Pubblica a Calabria, per dare rappresentanza ad una parte di lavoratori che per troppo tempo ne è rimasta esclusa. Vorrei anche ricordare che in Calabria abbiamo delle forti criticità e direi anche più accentuate rispetto ad altre regioni d'Italia. Tutti sanno che in Calabria abbiamo ad esempio contrattualizzato circa 4.000 LSU e le più nei comuni, che sostanzialmente vanno ad occupare parti consistenti degli organici e degli enti stessi. A Reggio Calabria si è tenuto l'undicesimo congresso regionale della FALP-CISAL, che ha riconfermato alla guida del settore delle poste Lillo Zappia, il servizio di Luigi De Angelis. Lillo Zappia è stato riconfermato all'unanimità segretario regionale della FALP-CISAL, ovvero la Federazione Autonoma dei Lavoratori Postelegrafici. Zappia guiderà l'attività del sindacato in Calabria per i prossimi 4 anni. La riconferma è arrivata al termine dell'undicesimo congresso regionale andato in scena a Reggio Calabria e a cui ha preso parte anche il segretario generale Walter De Candizis. Nel corso dei lavori sono stati posti al centro del dibattito i temi legati alla crisi e in particolare al delicato momento che sta attraversando il settore delle poste. Al riguardo sono state ribadite le perplessità circa il piano industriale di poste italiane presentato dall'amministratore delegato Francesco Caio e che in Calabria potrebbe determinare un robusto ridimensionamento della rete dei servizi e la chiusura di numerosi uffici postali. Ci dovrebbero essere o ci potrebbero essere delle ricadute molto significativi e soprattutto poi in Calabria non credo che si possa minimamente permettere, dico nessuno, togliere un solo posto di lavoro. È mai possibile che le maggiori conseguenze debbano essere pagate dai lavoratori o dai cittadini meno ambienti. Ma è concepibile questo stato di cose e l'azienda poste è inserita anche in questo contesto. Il servizio universale costa l'azienda un miliardo barra un miliardo e tre e il governo ne ritorna solo per il 2015 268 milioni. Quindi questo creerà un servizio minore rispetto alla cittadinanza in modo particolare all'interno della Calabria. E restiamo sempre a Reggio Calabria perché numerose associazioni e movimenti si sono riuniti questa mattina per discutere del preoccupante incremento di tumori nella nostra regione. Sentiamo Antonella Chirico. L'impernata continua delle neoplasie e crescita esponenziale di siti inquinati sul territorio calabrese hanno spinto numerose associazioni ad indire una conferenza stampa unitamente all'ex consigliere regionale Giuseppe Giordano per chiedere chiarezza e soprattutto rimanere vigili sulla problematica. Le federazioni presenti alla Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale hanno ribadito dati alla mano che nonostante le delibere e le azioni concrete protocollate dalle istituzioni ad oggi la Calabria è priva del registro regionale dei tumori. A tutt'oggi non abbiamo questo strumento che è fondamentale per lo studio eziologico tra effetto e causa cioè capire cosa effettivamente accade in un determinato territorio e quali sono le cause per poter intervenire. Sono 714 i siti ritenuti inquinati sul territorio calabrese di questi 190 solo nella provincia di Reggio. Secondo i movimenti presenti alla conferenza tre sono gli attori che devono lavorare sinergicamente ma qualcuno latita. Autorità giudiziaria ARPA-CAL Dipartimento della Salute della Regione Calabria. Mentre i primi due soggetti quindi Autorità giudiziaria e ARPA-CAL stanno portando avanti un lavoro di monitoraggio dei quali risultati ancora non abbiamo notizie ma dovremmo averne mentre quest'anno il grande assente su questa tematica è sicuramente la sanità della Regione Calabria. Voltiamo pagina alla Proloco di Vibo verso il San Valentino l'iniziativa organizzata in sinergia con le altre associazioni per celebrare la festa degli innamorati. confronti, flash mob, arte, musica e danze per una tre giorni tutta da vivere. Celebrare l'amore nelle sue molteplici forme questa l'idea della Proloco di Vibo Valencia che in vista della festa di San Valentino ed in sinergia con laleoneproduzioni.it ed eccellenza turistica mediterranea ha inteso promuovere una serie di eventi i quali animeranno il 12, il 13 e il 14 febbraio. Si tratta è stato spiegato nel corso della conferenza stampa tenuta da Luigi Isaeli e Nicola Leone di una serie di manifestazioni che per la loro natura in Italia hanno solo un precedente quello di Verona città dell'amore per eccellenza. Inizieremo con una conferenza una tavola rotonda dove ci saranno scrittori poeti, psicologi insomma tecnici che illustreranno le varie tematiche del vivere della coppia del vivere della coppia del confrontarsi oggi tra i vari periodi di crisi la crisi economica e quindi iniziamo con giorno 12 giorno 13 e 14 inizieremo con le varie mostre artistiche la fiera degli innamorati lungo corso Vittorio Emanuele precisamente nella galleria vecchio dopodiché inizieremo con dei flash mob e delle danze romantiche che ballerini improvviseranno lungo corso Umberto I e quindi corso Vittorio Emanuele tutto questo sempre improntato alla diciamo valorizzazione di un territorio che la Proloco non vuole abbandonare la Proloco non vuole essere seconda a nessuno e quindi tutto tutto qui al momento un programma vasto una tre giorni che ringraziamo il CSV ringraziamo la Confcommercio ringraziamo i varianti che ci stanno sostenendo e questo è un lungo iter che noi abbiamo intrapreso sia personalmente alla guida della Proloco di Vibo Valencia come vicepresidente e sia come eccellenza turistica mediterranea che rappresento ringrazio i miei collaboratori Nicola Leone della Leone Produzioni i miei amici soci Salvatore Bisogni tecnico delle coreografie nonché tutte le persone che mi stanno sostenendo in questa avventura è veramente tutto vi lascio allo Sport News cura di Alessio Bonpasso e vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione questa sera alle 20 e 15 grazie per averci seguito buon pomeriggio visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia e vi ricordo che fa notizia per averci seguito il nostro canale e vi ricordo di Alessio e vi ricordo che fa notizia per averci seguito Grazie.